La provincia di Teramo ha annunciato di aver predisposto tutte le operazioni per rendere pienamente operativo il piano neve per circa 1600 km di strade, buona parte di esse in area montana e pedemontana. Programma approvato lo scorso anno con durata pluriennale e si avvali di un contributo regionale di 150.000 euro, mentre oltre 500.000 euro è la spesa a carico della provincia, salvo ulteriori esigenze finanziarie. Le ditte incaricate anche per sopperire all'attuale carenza di operai dell'ente quest'anno sono salite a 50 rispetto alle 44 dello scorso anno e sono dotate di mezzi spalaneve e spargisale. Il sale a disposizione è sistemato nei depositi territoriali, mentre è in corso una nuova gara per ulteriori approvvigionamenti. A differenza degli altri anni è che ho cambiato metodo e approccio, perché abbiamo fatto una gara l'anno scorso triennale, ecco, perciò siamo sempre ponti, anche in periodi dove non si aspetta la neve, perché le società, ecco ci sono 50 ditte già allertate, appena inizia a nevicare, dopo 5 centimetri da soli per un piano di sicurezza che abbiamo approvato devono partire, sia spalare che assalare. Ecco, era quello che dicevamo un anno e mezzo fa quando siamo entrati ad amministrare questa provincia, il cambio d'approccio. Dobbiamo agire nella prevenzione assoluta, non aspettare, io penso, io credo. C'è un piano approvato, c'è un metodo di lavoro che funziona e così deve essere. Abbiamo investito circa 500 mila euro grazie anche ai 150 in aggiunta della regione Abruzzo, così riusciamo a garantire una sicurezza sulle strade positiva.